Ciao da Avsim, ragioniamo un attimo sui giovani della Juventus, perché tra le varie notizie di calciomercato ci sono anche quelle relative ai ragazzi che sono stati in under 23 oppure sono stati già mandati in prestito e che comunque dovranno far qualcosa la prossima stagione, si dovrà prendere una decisione per ciascuno di loro che è una decisione fatale, cruciale, veramente fondamentale, perché se decidi di valorizzare un giovane tenendolo in prima squadra poi lo devi far giocare ed è una decisione importante, ma se decidi di privartene vuoi perché lo sbatti di nuovo in prestito, vuoi perché lo lasci ancora in under 23 che intanto ha fallito ancora una volta la qualificazione e la promozione in serie B e quindi è un progetto non dico per forza fallimentare ma è un progetto monco, veramente limitato, vuoi che decidi invece per quanto riguarda i giovani di venderli proprio, di spartene perché un po' loro vorrebbero giocare di più e tu non sei disposto a farlo, un po' magari ti serve un gruzzoletto di ricavi per la prosvalenza è un'altra decisione fondamentale perché poi non si torna indietro, un giocatore che adesso ha 18 anni non è che avrà 18 anni anche tra due anni, tra due anni ne avrà 20 e se nel percorso tra 18 e 20 non ha fatto tutto quello che doveva fare per arrivare pronto non puoi recuperare quel percorso, puoi solo andare avanti sperando di rimediare ma molto spesso non è possibile e d'altra parte se invece un giocatore fa quel percorso ma lo fa ormai lontano da te perché hai deciso di privartene oppure non ha più fiducia nel tuo progetto perché intanto tu l'hai sbattuto in prestito e quindi lui adesso dice voglio andare a giocare per qualche altra squadra perdi l'opportunità di avere un giovane che nel frattempo è forte, che nel frattempo è diventato pronto ma non puoi più sfruttarlo, quindi capite che ci sono veramente tante strade che si diramano da questo momento qui, da questa estate 2022, dalle decisioni che saranno prese in seno alla Juventus per quanto riguarda questi ragazzi e purtroppo queste decisioni sono nelle mani di Allegri, sono nella testa di Allegri stanno lasciando decidere Allegri su quello che si dovrà fare, su quello che dovranno fare questi ragazzi prevalentemente è lui a decidere e allora io ancora chiedo, ancora chiedo, ma chi è il direttore sportivo della Juventus? no perché Cherubini qualcosa sicuramente lo sta facendo anche se non appare, anche se non si manifesta, non parla particolarmente però poi è chiaro che tante decisioni tecniche sono anche consegnate nelle mani di Allegri compresa quella su Tibala perché Tibala è stato cacciato anche da Allegri nonostante abbia detto il contrario all'inizio della stagione e anche nel corso della stagione si tratta di un atteggiamento subdolo, si tratta di ipocrisia non lo so, decidete voi, giudicate voi, fatto sta che Allegri decide altro che Allegri out magari, si è ancora qui a sperare e invece non solo Allegri non è stato valutato per quello che realmente ha fatto in questa stagione ha fatto, ha fatto male e non ha fatto non solo, quindi non ci sono giudizi e decisioni negative su di lui come un esonero ma addirittura è diventato un manager quello che si diceva l'anno scorso che sarebbe diventato, se ricordate Allegri va alla Juve, torna alla Juve per fare una sorta di allenatore direttore sportivo alla Ferguson quello che lui aveva smentito di essere proprio un anno fa dicendo io sono venuto a fare esclusivamente l'allenatore non mi metto a fare altro e di conseguenza è lui, l'arbitro del nostro futuro e qui attenzione, attenzione perché finché Allegri deve chiedere prendetemi Pogba ok? è una cosa che non crea un grosso danno nel senso ti assumi i costi di Pogba però comunque hai un giocatore lo paghi troppo rispetto a quello che poi renderà? si può valutare però il giocatore intanto tu ce l'hai e non è che ti pregiudica più di tanto ti pregiudica magari la crescita di qualche altro giovane che rimane occluso nelle gerarchie ti pregiudica l'acquisto di qualche altro giocatore però non è che puoi comprare tutti e tenere tutti delle scelte le devi fare il problema quindi è l'eredità delle scelte di Allegri sui giovani come già dicevo prima perché mentre prendere Pogba può essere diciamo innocuo nella programmazione futura della Juve può essere anche un vantaggio rinunciare a determinati giovani può essere un'eredità negativa pesante anche per il futuro anche quando Allegri dovesse essere cacciato e qui dobbiamo parlare della prossima stagione 22-23 ma prima vi voglio specificare che questi ragionamenti che vi sto facendo e che spero appreziate fatemelo sapere con un like ditemi la vostra nei commenti nascono in gran parte dalla chiacchierata settimanale con gli abbonati gli abbonati a questo canale in particolare titolari e dirigenti quindi livello intermedio e livello massimo possono tra gli altri vantaggi partecipare alla live settimanale riservata a loro quindi ci riuniamo anche tramite discord con chat vocale e chiacchieriamo per un'ora e mezzo o due di tutte le cose più importanti della Juventus e non solo di solito il giovedì sera con un appuntamento che è privato quindi non potete accedere se non da abbonati e appunto con gli abbonati che ringrazio e che saluto e ringrazio soprattutto per il sostegno e per tutta la partecipazione vengono fuori delle belle discussioni e quindi si parla anche di queste cose ci si confronta su queste prospettive su questi cambiamenti su questi bivi perché siamo ad un bivio tra una Juventus che programma è una Juventus a distruzione programmata a distruzione programmata perché appunto se Allegri poi la prossima stagione dovesse essere esonerato intanto ti ha preso delle decisioni fatali ripeto delle decisioni fondamentali per il futuro quali per esempio veniamo allora ad alcuni giovani perché per esempio Coni De Winter difensore e terzino belga della Juventus il suo procuratore ha detto non giocherà mai più in under 23 cioè ha fatto capire in maniera chiara non pensate cara Juve non pensare che me lo mandi di nuovo in under 23 a fare la serie C anche l'anno prossimo questo ragazzo o lo mandi in prestito e vediamo anche un po' dove mi auguro in serie A perché potrebbe giocare in serie A e altrimenti che crescita è se lo mandiamo a fare la serie B oppure deve andare in prima squadra ma purtroppo la Juve è questa roba qui che rinnova a quadrato a 34 anni a 5 milioni oltre a rinnovare De Sciglio a 29 anni quello che sia anche se con ingaggio ridotto fino al 2025 invece di mettere in prima squadra Danilo e De Winter Danilo e De Winter e basta così lo fai crescere Danilo mi fa 30 partite all'anno De Winter me ne fa 20 qual è il problema? De Winter non può giocare in serie A contro la Salernitana la Sampdoria con tutto il rispetto lo potrebbe fare se si crede in lui e quindi già questo è uno che è in biligo perché che cosa fa la Juve con De Winter se non lo può mandare in Under 23 dove lo manda? e quindi Allegri decide il futuro di De Winter perché se De Winter viene mandato in prestito in serie B magari si ferma la sua crescita e sarà colpa di Allegri però intanto il danno resta alla Juve chi rompe paga ma i coach in questo caso a chi vanno? non sono di Allegri se Allegri rompe e paga cioè lo cacciano i coach restano a noi e non è solo De Winter c'è anche Dragosin che è stata fatta la scelta sbagliata io l'avevo detto nel mandarlo in prestito alla Sampdoria e alla Salernitana cioè in due club diversi va bene mandarlo in prestito in serie A appunto perché non mi voglio contraddire è chiaro sono d'accordo nel mandare certi giovani in prestito in serie A però si devono scegliere bene le squadre bisogna mandarlo dove può giocare e invece ha giocato poco e neanche benissimo tra Sampdoria e Salernitana ma poi cambiare anche nel corso della stagione squadra non è che sia il massimo per la sua crescita e allora adesso Dragosin che cosa fa è un giocatore lo andiamo a vendere perché nel frattempo abbiamo preso Gatti e non abbiamo però una difesa centrale costruita seria che si sappia da chi è composta e soprattutto che programmazione c'è sulla difesa centrale quindi altro punto interrogativo poi il centrocampo tutti auspicano che Miretti rimanga aggregato alla prima squadra pare che sarà effettivamente così mi auguro che almeno lui che almeno lui perché lo ritengo assolutamente forte assolutamente pronto e capace se persino Allegri se ne è innamorato deve essere veramente un fenomeno visto che Allegri giovani non li vede assolutamente però poi abbiamo un discorso più ampio da fare sul centrocampo e infine sull'attacco e per il centrocampo dobbiamo parlare di Ranocchia di Rovella e anche di Fagioni perché Ranocchia pure è stato mandato in prestito in Serie B al Vicenza e è un'ottima mezzala è una mezzala molto interessante anche con degli ottimi piedi non credo però che ci possa essere spazio per la Juve per Ranocchia nella Juve quest'anno e infatti almeno per Ranocchia si sta parlando di un nuovo anno di prestito e potrei anche essere d'accordo perché in questo momento non troverebbe spazio in una Juve che sta cercando di prendere Pogba che comunque ha già preso Locatelli e Zaccaria quindi ci sono già dei giocatori freschi titolari per forza poi se ci aggiungi anche Miretti diciamo che il reparto è fatto con alcuni interventi ma più o meno ci siamo mentre e quindi Ranocchia speriamo che venga scelta bene la squadra dove deve andare in prestito in Serie A mi auguro a giocare veramente ma non a farsi le ossa a giocare a giocare a confrontarsi ad altri ad alti livelli e comunque siamo assolutamente fuori strada rispetto ai grandi club europei rispetto alla tendenza europea che è quella di far giocare i giocatori non di mandarli in giro così poi migliorano o fare come dice Allegri che passato del tempo i giocatori sicuramente sono cresciuti si sono diventati più vecchi meno giovani ma non è che sono migliorati però la questione cruciale riguarda come dicevo soprattutto Fagioli e Rovella Fagioli anche il procuratore di Fagioli è stato molto chiaro il suo contratto scade nel 2023 quindi si dovrà discutere il rinnovo ma ovviamente vorranno delle garanzie perché lui la stagione in B l'ha fatta e l'ha fatta in maniera straordinaria è stato strepitoso con la Cremonese ora Pecchi ha lasciato la Cremonese quindi non c'è più quel contesto tecnico-tattico in cui Fagioli ha fatto bene e quindi restare in prestito alla Cremonese in Serie A non avrebbe molto senso perché è un'altra squadra tendenzialmente avrebbe senso mandarlo in prestito in Serie A in una squadra dove può giocare dove può giocare però stiamo parlando di un giocatore che era pronto a fare la Serie A pure l'anno scorso e l'hanno mandato in Serie B perché si è visto il livello del giocatore qual è ed è cresciuto nella Juve da under 15 giovanili under 15 under 17 under 19 under 23 a faccio in prima squadra e adesso è andato in prestito a fare la Serie B lo mandano in prestito in Serie A con quali garanzie però perché se gli devi rinnovare il contratto glielo devi rinnovare dicendogli ok ti mando un anno in prestito poi torni e ti faccio giocare altra decisione cruciale per la crescita del ragazzo e per le opportunità della Juventus per non parlare appunto di Rovella che intanto fu un'operazione di quelle da plusvalenza fittizia perché poi a proposito sono uscite le motivazioni del secondo grado del processo sportivo per plusvalenza fittizia e che cosa ha detto la corte sportiva d'appello ha detto sono state plusvalenze fittizie si fa questa cosa è stata fatta però non possiamo dirlo perché non ci sono dati oggettivi perché non c'è un illecito non è illecito però il fatto c'è il fatto c'è ma non costituisce reato per usare un termine penalistico e quindi Rovella fu quello perché ci presero Sturaro e non mi ricordo chi altro e prendemmo Romero e poi la stagione successiva o forse mi confondo con l'età no più o meno ci siamo era quello è stato preso Rovella perché nel 2020 esatto l'anno dopo l'anno dopo l'operazione è incrociata con Sturaro Romero siamo andati poi anche Portanova ecco anzi Portanova e chi altri abbiamo mandato al Genoa quindi c'è stata questa doppia operazione nel 2020 guarda caso esattamente da 18 milioni 10 più 8 da parte loro e 18 da parte nostra per andare a prendere Rovella lasciandolo poi al Genoa in prestito biennale per fare cosa cioè mettere a bilancio 18 milioni per un giocatore che vedi due anni dopo per fare cosa non si sa infatti anche su questo deciderà Allegri e quale sarà la sorte di Rovella è interessante saperlo sarebbe bello saperlo e sarebbe bello che fosse la sorte migliore per il giocatore e per la valorizzazione degli investimenti della Juventus degli investimenti perché Romero già l'abbiamo visto già l'abbiamo visto che fine ha fatto lo vai a prendere perché devi fare gli scambi plus valenza e quant'altro lo mandi in prestito poi non fa neanche una partita nella Juve e alla fine l'Atalanta va a contare i soldi perché lo vende al Tottenham a 55 milioni adesso nel Tottenham Romero sta facendo benissimo con Conte con Conte ovviamente e in Premier League e quindi rischiamo di commettere gli stessi errori di fare degli investimenti che poi non ci portano nessun frutto perché vengono semplicemente bruciati cioè prendi un giocatore e poi non lo usi e poi appunto c'è l'attacco a centrocampo ci sarebbe anche Barrenecea che si è rotto il crociato qualche mese fa adesso ha pienamente recuperato che è un validissimo giocatore che però ancora sta facendo l'Under 23 ce ne sono anche altri tra l'Under 23 e l'Under 19 giocatori interessanti per cui vale la pena anche di aspettare 17 anni 18 anni magari tra qualche anno avremo un ricambio speriamo ma dipende anche da come si lavora adesso e da che sbocco dai a quelli che sono pronti ora perché se non dimostri di voler veramente investire sui giovani non ha neanche senso continuare a lavorare con quelli che tieni nelle giovanili senza contare il mercato appunto perché il mercato è un mercato di nuovo da instant team da squadra di giocatori pronti e quindi i giovani che fine fanno e parlando dell'attacco abbiamo Ake e abbiamo Sule in particolare questi sono soprattutto con Ake che ha fatto delle ottime apparizioni in prima squadra quest'anno Sule molto meno ma sappiamo che è un giocatore fortissimo ecco però anche qui perché andare a prendere un esterno un altro esterno magari dopo che hai pure rinnovato quadrado e stai aspettando Chiesa quando hai Ake che come esterno destro può fare lo spacca partita può fare il giocatore che metti l'ultima mezz'ora o magari anche gli fai fare qualche partita da titolare e lo fai crescere nella fase difensiva nella fase difensiva che Allegri pretende da questi esterni da queste ali che devono fare i terzini ma soprattutto lo fai giocare in prima squadra altrimenti anche questo qui rischi di bruciarlo al contrario non facendolo giocare quando è troppo presto ovvero non facendolo giocare quando è il tempo giusto per farlo giocare e di Sule ho anche tantissima paura perché Sule è un talento cristallino è un gioiello puro ve ne parlo dalla prima volta che l'ho visto giocare è un giocatore fortissimo con margini di miglioramento ma tecnicamente Sule non si discute è un Di Bala Sule è un Di Bala noi abbiamo il sostituto di Di Bala in casa già da due anni da un anno due anni e che cosa ne faremo da due anni sì perché è stato acquistato a gennaio 2020 che cosa ne faremo di Sule non lo so anche qui ecco poi c'è anche il discorso CTP Sule ormai è CTP anche tanti altri quindi non ti tolgono neanche lo spazio nelle liste possiamo tornare a fare una Champions League con 25 elementi in lista che non facciamo da non so quanti anni forse da sempre perché i CTP non li abbiamo mai avuti mai sfruttati e mai valorizzati con questi inserimenti puoi arrivare a portare anche 25 giocatori in lista in Champions League che male non è che male non è però se tu vai a fare il 4-3-3 Sule dove lo metti e poi anche Sule e Ache devi decidere uno di loro tutti e due nessuno dei due e quindi tornando al discorso che facevo all'inizio e chiudendo e chiudendo siccome la prossima stagione si rischia veramente il tracollo perché la prossima stagione si deve assolutamente vincere lo scudetto e qui io inizio a dirlo poi ripeteremo questo discorso si deve assolutamente vincere lo scudetto se l'anno prossimo non si vince lo scudetto è fallimento se oltre a non vincere lo scudetto non vinci niente come pure quest'anno cioè zero titoli o fai magari vinci una Coppa Italia perché la Supercoppa Italia non la possiamo giocare e fai qualcosina meglio in Champions però a livello di valorizzazione dei giocatori siamo a zero sotto zero come quest'anno è fallimento uguale è fallimento uguale almeno per quelle che sono le mie aspettative ma anche per quelle che sono le aspettative che genera questa dirigenza con trionfalismi nomi altisonanti mercato stellare che poi alla fine non è presa in giro e quindi se sarà fallimento con annesso esonero di Allegri e magari magari anche cacciata di Agnelli ripeto chi rompe paga perché se ne vanno ma i cocci sono i nostri perché far decidere a un allenatore che non sa valutare i giocatori e non sa valutare i giovani che destino devono avere gli stessi giovani perché far decidere a lui perché l'allenatore è l'allenatore fino ad un certo punto fino ad un certo momento poi potrebbe non esserlo più e la dirigenza vista il fallimento il disastro di quest'annata dovrebbe pensare dovrebbe saperlo dovrebbe capirlo che non è il caso di far decidere ad Allegri tutto quanto ma purtroppo sarà così grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti su questa tematica quali sono i giovani da tenere anche per la Juventus chi effettivamente resterà quali sono le vostre preferenze e mettete like a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e per partecipare alle prossime live riservate e avere tanti altri vantaggi abbonatevi a questo canale a partire da 99 centesimi al mese ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti